Oggi sono proprio contenta di raccontarvi questo bellissimo caso studio di ristrutturazione di un edificio di fine ottocento a Milano che è stato curato dal nostro Simone Tirinato che è un progettista strutturale ed è un esperto di bonus fiscali. Chi è di Milano o comunque chi opera su Milano sa bene che l'edilizia di fine ottocento ed inizi novecento nella città presentava frequentemente solai in legno e quindi va da sé che nel recupero di questi edifici che sono spesso di pregio occorre quindi porre grande attenzione al consolidamento dei solai. Ecco in questo caso studio vediamo proprio come si svolge l'intervento dei rinforzi di solai in legno attraverso proprio un esempio reale. Si tratta infatti di una tipica ristrutturazione di un appartamento in un contesto residenziale a Milano realizzato a fine ottocento. Il progetto dell'intervento è stato effettuato con il software Travilog che dispone proprio di strumenti specifici per gli interventi locali in zona sismica ma anche in zona non sismica. Quindi vi consiglio assolutamente che per calcolare i carichi dei progetti quindi i carichi dei rinforzi di solai vale assolutamente la pena provare con Travilog che ha un tool specifico per questo tipo di interventi rapidi e risolutivi. Potete provarlo su www.logical.it. Torniamo al nostro esempio. Allora l'appartamento oggetto di ristrutturazione ha già subito delle modifiche nel corso degli anni. Gli interventi però che riguardano quest'ultima riqualificazione sono la diversa distribuzione degli spazi interni attraverso la demolizione e ricostruzione della partizione interna e questo è un caso quindi molto molto tipico. Inoltre c'è da considerare anche la messa in opera di un impianto di riscaldamento a pavimento. A questo si aggiunge ovviamente la modifica di tutte le finiture interne. Nella fase di strip out ed in particolare nella rimozione della pavimentazione del sottofondo esistente si è palesata quindi la necessità di intervenire su un solaio. Questo si presentava già con qualche anno di anzianità. Il degrado degli elementi in legno e delle precedenti perdite dell'impianto idraulico, attenzione, hanno reso ancora più critica la situazione. La funzione principale di un solaio sappiamo è di garantire le funzioni degli ambienti che delimita ma come? Trasferisce carichi cui è soggetto agli elementi strutturali su cui è appoggiato o vincolato e inoltre trasferisce le azioni orizzontali agli elementi verticali. Al fine di garantire piena funzionalità deve resistere ai carichi applicati ma anche contenere le deformazioni che derivano sempre dai carichi e dalle azioni applicate. Quando si progetta quindi il rinforzo di un solaio esistente dobbiamo considerare sia carichi esistenti sia quelli che verranno applicati a seguito dell'intervento di riqualificazione. Di conseguenza è opportuno sondare con attenzione lo stato di fatto perché bisogna quindi, ribadisco, determinare correttamente carichi e azioni. Ecco, nel nostro esempio, allo stato di fatto il solaio in legno esistente è caratterizzato da, adesso vi faccio un elenco, rivestimento ceramico, riempimento in calcestruzzo da 5 a 8 cm, assito in legno da 2-3 cm, travetti in legno di sezione 10 x 20 cm e controsoffitto incanniciato. Allora, da questo schema possiamo definire i carichi presenti categorizzandoli secondo quanto definito dalle norme tecniche. Il rivestimento ceramico, il riempimento in calcestruzzo e il controsoffitto incanniciato costituiscono i carichi permanenti non strutturali del solaio, invece l'assito in legno e i travetti in legno sono elementi strutturali e quindi definiscono i carichi permanenti. L'edificio è di tipo residenziale, questo significa che il sovraccarico applicato al solaio è quello di categoria A. Quali altre informazioni si ricavano dall'analisi del solaio? Beh, diciamo che possiamo ricavare informazioni che riguardano un vincolo deformativo e la rigidezza del solaio esistente. In primo luogo, il controsoffitto incanniciato condiziona la deformazione ammesse, oltre ai normali limiti consentiti per l'utilizzo del solaio. Il rivestimento all'intradosso, infatti, non può essere in questo caso oggetto di intervento ed è necessario garantirne la stabilità sia durante sia dopo. In secondo luogo, il riempimento in calcestruzzo crea una condizione di carico importante, tuttavia non costituisce un effettivo contributo di rigidezza alle azioni orizzontali. Questo perché non è un massetto armato e non è connesso al resto degli elementi strutturali. Vediamo allora come rinforzare il solaio lenio, cioè quali sono le scelte progettuali effettuate. Come detto in precedenza, bisogna partire dalle condizioni dello stato di fatto, ma anche pensare a quelli che sono gli interventi necessari dello stato di progetto. Per il solaio in esame ci sono due condizioni che hanno vincolato la progettazione. L'inserimento di un riscaldamento a pavimento e la necessità di limitare le deformazioni. Allora, vediamo qual è il pacchetto edilizio nuovo proposto. Si parla di rivestimento in parchè da un centimetro e mezzo. Massetto autolivellante per pannelli radianti da 2,5 centimetri. Riscaldamento a pavimento con autolivellante a basso spessore di 5 centimetri. Sottofondo alleggerito per passaggio degli impianti di 8 centimetri. Getto in calcestruzzo alleggerito con rete elettrosaldata 6 centimetri. Connettore calcestruzzo legno da 4 centimetri nello spessore del getto in calcestruzzo. Membrana traspirante impermeabile per il getto. Assetto in legno da 2-3 centimetri. Travetto in legno di sezione 10x20 e contro soffitto incanneciato. Ah! Ora, è evidente che il pacchetto edilizio rispetto allo stato di fatto è decisamente più articolato, ma allo stesso tempo si gestisce l'incremento di carico compensando quello tolto e aggiungendo elementi con peso specifico contenuto. Cosa possiamo didurre? Che solo se si dettaglia in modo puntuale il pacchetto edilizio si possono quindi raggiungere gli obiettivi di capacità prefissati per il solaio esistente. E per raggiungere questo scopo è fondamentale dimensionare i connettori che svilupperanno il collegamento tra la struttura esistente in legno ed il rinforzo della soletta collaborante alleggerita. Veniamo ora alle verifiche. Per dimensionare e verificare il rinforzo di un solaio in legno facciamo naturalmente riferimento alla normativa nazionale ma anche a quella europea. Il modello da considerare è quello dell'appendice B2 dell'Eurocodice 5. In tale modello si considera la ridistribuzione delle tensioni tra la soletta in calcestruzzo e la trave in legno a mezzo di una connessione con una rigidezza non infinita. A questo modello affianchiamo poi le specifiche delle norme tecniche in particolare capitolo 442 che dice, ora ve lo recito, in presenza di giunti meccanici si deve di regola considerare l'influenza delle deformabilità degli stessi. Per tutte le strutture in particolare per quelle composte da parti con diverso comportamento reologico le verifiche per gli stati limite ultimi e di esercizio devono essere effettuate con riferimento oltre che alle condizioni iniziali anche alle condizioni finali a tempo infinito. È quindi opportuno verificare la deformabilità delle connessioni in due distinti tempi. Per questo vengono esplicitate le verifiche per la trave in legno, la soletta in calcestruzzo e il connettore. Noi lo abbiamo fatto con Travilog, o meglio Simone Tirinato, il nostro progettista, lo ha fatto con Travilog e lo ha fatto con grande semplicità controllando i parametri geometrici e meccanici ed ovviamente i carichi applicati. Il nostro consiglio quindi è quello di provare Travilog, in particolare il modulo rinforzi che è proprio pensato per progettare sistemi di rinforzo per strutture in muratura e ha un tool specifico per i solai. Grazie a tutti per l'attenzione e vi ricordo che i podcast tecnici sono un servizio gratuito di Logical Soft a cura di Cristina Ancona.